Sponsored by Costa Marina, case, vacanze, b&b e ristorante a Peschici Gargano Info 348 83 29 295 Costamarina Peschici.it Impresa Valassi Fermo e Franco L'arte di costruire e ristrutturare www.valassiff.it Trattoria Cantù dal 1897 all'Iporna 7 di Urginate Trattoriacantù.com Studio Dentistico Caponero Dottor Livio Sulla bocca di tutti caponerolivio.it Treva Home La tua casa vacanza sul lago di Como 340 22 45 235 trevahome.it Riga Monticepi gremito sold out come non accade da anni per la semifinale di andata dei playoff nazionali Per la serie B. Lecco Cesena dirige il signor Gabriele Scatena di Avezzano Una partita importante. Cesena che ci arriva dopo due pareggi con il Vicenza a reti inviolate Lecco reduce dalla grande presa di Pordenone sotto una nord gremita di bandiere blu celesti Ci prova la squadra di Foschi. Inizia meglio il Cesena qui con Brambilla, Ardizione La palla rimane lì. Attenzione alla conclusione di Steven Spendi Sono passati quattro minuti C'è un tocco di mano reclamato dai giocatori del Cesena Il direttore di gara dopo qualche secondo però Sarà richiamato dal VAR C'è l'introduzione storica del VAR in Serie C Che concede il rigore Vedete che però Bianconi La palla sbatte sulla coscia e poi finisce tra le sue braccia Discutibile quantomeno questo rigore perché sembra toccare tra l'altro Forse solo la mano attaccata al corpo Il braccio attaccato al corpo Vuoi rivederlo da tante angolazioni? Rimarrà sempre il dubbio Ci pensano un po' poi Viene dato il rigore Primo storico rigore con il VAR in Serie C Su Bianconi contro il Lecco Ed è penalti per il Cesena Va Mercadante che spiazza Melgrati 8 minuti, sono trascorsi 4 Da quando è stato effettuato il presunto fallo di mano Ma c'è in vantaggio sotto la sud Gremita dei tifosi al Cesena Molti da Cesena invece non sono riusciti a giungere a Lecco A causa di problemi in autostrada Traffico, le code e il rientro del ponte del 2 giugno Lecco che va sotto dunque dopo 8 minuti E Cesena in vantaggio Cambia naturalmente la geografia di questa doppia sfida Buso cerca spazio Poi prova a calciare Viene murato Girelli si coordina bene con un mezzo esterno destro Palla che sfiora il palo La reazione subito al quindicesimo Della squadra di Foschi Che ci crede Calcio di punizione di Lepore Che scodella in aria Attenzione al colpo di testa di Zeliac Che va a segnare il gol del pareggio Queste braccia che si alzano dalla tribuna E nascondono la visuale Ma c'è fuori gioco Anche qui ci sarà un check del VAR Un controllo Zeliac effettivamente parte al di là Peccato perché qui aveva bruciato tutti Il difensore L'esperto difensore blu celeste Trentaduesimo Da calcio d'angolo Attenzione al colpo di testa di Prestia E la grande parata di Melgrati Imperioso lo stacco di Prestia E Melgrati dice di no Al raddoppio del Cesena Trentaquattresimo Con due contro tre Attenzione al pallone in velocità Steven Sfiora il gol Plamoroso Steven Spendi Sull'uscita di Melgrati Imbeccato In contropiede Quarantaduesimo Dentro il pallone Attenzione all'1-2 Per Bumbu E ancora Melgrati a dire no Sempre attento e puntuale Il portiere dell'Ecco Qui si è chiuso un ottimo 1-2 Bumbu ci ha provato Calcio d'angolo Attenzione Colpo di testa Deviazione di Lepore Arriva il 2-0 Il raddoppio Con Prestia Ancora una volta Il numero 19 Tempista Sul colpo di testa Ma Ancora gli episodi Da condannare l'Ecco Vediamo Perché la palla sbatte Sulla schiena di Lepore Dunque tanta sfortuna Per spiazzare Melgrati Da questa Inquadratura si vede benissimo Che il colpo di testa Probabilmente non sarebbe andato Nemmeno in porta L'Ecco davvero sfortunato Qui eh 2-0 Nella ripresa Dentro subito Mangni Per cercare Più apporto offensivo Nell'Ecco Dentro il pallone Attenzione Perché Steven Spendi ancora Da due passi Colpisce il palo Si divora Ancora una volta Un altro gol Il 3-0 Qui che chiuderebbe i conti Quasi dalla linea di fondo Forse anche un tocco di mano Il suo Pallo clamoroso Cesena che spreca Qui il cross dentro Non ci arriva Entrato dalla panchina Bianchi Sul cross di Rajak Anche lui è entrato Dalla panchina Nel primo tempo Sempre Cesena 64esimo Sempre Steven Spendi Melgrati si oppone E arriva il fratello Christian Spendi Che colpisce il palo E si divora Un'altra occasione Clamorosa il Cesena E si dimostra Complessivamente Migliore Poi la conclusione Steven Spendi Alta Ma non chiude i giochi Non chiude i conti E allora si rimane 2-0 E vediamo anche qui La conclusione di Steven Arriva il fratello Che può fare tutto Ma invece cerca La potenza Con il mancino Colpisce un palo clamoroso Melgrati battuto 65esimo E l'Ecco ci crede Si scuote Con i cambi Il cross Di Lepore Attenzione Perché arriva Giudici Che segna il gol Del 2-1 2-1 Il Lecco la riapre La riapre Il Lecco la riapre Lepore al cross E il gol Di Giudici Lepore al cross Rivediamo ancora Non si chiude Non si chiude l'1-2 Ancora Lecco Però Attenzione Zuccon Con forza Dentro per Bunino Che per poco Non la mette dentro Alle spalle di Tozzo Manca veramente Pochissimo Qualche centimetro Quattro minuti di recupero Si giocherà però A fino al 95esimo Inoltrato sotto il diluvio Enrico Monticepi Arriva al fischio finale Di Scatena Finisce 2-1 per il Cesena Lecco che dovrà vincere Con almeno un gol di scarto In terra romagnola Giovedì Per portarla Ai supplementari Giovedì